Una chiesa battista a Klasberg, molti anni fa, non avevano la chitarra, però il brano era questo. Perché dovete sapere che le finizioni di Gesù è là diversamente da una nostra messa grande, come dicono, da una nostra parte dura un'oretta, 40 minuti quella normale. La da loro partono le 9 e finiscono le 4 del pomeriggio, perché tra un Vangelo e una lettura c'è un barbecue di mezzo e poi si riprende a cantare le rodi del Signore. No, ma non è una cosa così, quindi c'è proprio la partecipazione, quindi si balla, si canta, ognuno mette il suo e ti ritrovi in questa apoteonia. Questo è un bravo di pello. Se io potete battere le mani, eh, batterele. No, ma non miиться, se io potete battere le mani, eh, batterele. I got the road to go down, I got no weakness to die, when I'm getting to heaven down, when I'm getting to heaven down. Oh, praise the Lord. I got a slave to die, sing, Lord, carry me, carry me down, I got my shoes to die, I got my shoes to die, Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti.